buongiorno a tutti anzi buonasera allora nell'attesa di farvi il video per le due semifinali dei playoff di serie B perché oggi c'erano i playoff di serie B anche se temo che questo video lo vedrete quando sarà già mezzanotte così come anche quelli sui playoff di serie B perché ora che oggi i criceti sono lenti non sono lentissimi ma non sono neanche velocissimi sono appena appena così così diciamo oggi giornata trionfale per l'Inter giornata molto negativa per il Milan e per quelli che pensavano che il proprietario di Louis Vuitton prendesse il Milan se ne parla già da da tanto tanto tempo e invece ahimè andiamo a leggere questa notizia che probabilmente avrà messo nello sgomento i tifosi rossoneri che tra l'altro vedono anche entrare nel gruppo Inter o Act 3 che gli risolve tutti i problemi e quindi teoricamente certo l'Inter non farà un mercato faraonico ma potrà fare mercato potrà non cedere i big eccetera 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 e il Milan che sperava invece di essere preso da questo gruppo potentissimo eccetera è successo questa cosa qua un tentativo di truffa sarebbe stato messo in atto utilizzando i nomi di Bernard Aourneau re del lusso e criceo della multinazionale Louis Vuitton e del Milan lo riporta alla Repubblica spiegando che gli inquirenti stanno valutando un'ipotesi di reato a carico del mediatore finanziario di V le iniziali giustamente 62 anni in Bresciano ex funzionario di banca la procura di Milano sta approfondendo il caso la vicenda scrive il quotidiano parte da lontano e si sviluppa pre e post pandemia il nome di Arnaud viene legato al Milan per la prima volta nel luglio 2018 nonostante le smentite circolavano con credibilità negli ambienti della moda a Milano e a New York le indiscrezioni sull'affare del nuovo stadio a San Siro e dell'annesso centro commerciale da consacrare in misura massiccia ai marchi del lusso fu lo stesso Arnaud in persona a raffreddare le speranze dei milanisti a gennaio 2020 in occasione del report annuale di Louis Vuitton poi durante la pandemia la crisi finanziaria mondiale riaccese le indiscrezioni sulla vicenda ma senza nulla di concreto nel frattempo però durante l'emergenza coronavirus si scrive calce finanza invece il giallo stava per vivere la sua fase più ambigua che sarebbe finita sul tavolo della procura milanese già nell'estate 2019 il più veloce a cavalcare l'onda delle notizie di un possibile interesse da parte di Arnaud per il club rossonero era stato l'intermediario bresciano di V domodossola Verona le sue iniziali il quale mentre lavorava al finanziamento di un grande progetto immobiliare in una tenuta svizzera del ticinese aveva ottenuto parte delle quote della società al partatrice anche grazie a una garanzia non scritta che ne accresceva il prestigio si era dichiarato uomo di fiducia in Italia di Bernard Arnaud e suo interlocutore privilegiato nella trattativa per l'acquisizione del Milan dall'alto di questa condizione assicurava che nessuno meglio di lui sarebbe stato in grado di trattare col fondo angloamericano Elliot della famiglia Singer che aveva raccolto il Milan dall'inadempiente Yongon Lee nelle cui mani lo aveva lasciato Silvio Berlusconi nell'aprile 2017 diviso steneva di essere stato incaricato da Arnaud in persona della parte più operativa del progetto mettere in piedi il team italiano che avrebbe dovuto gestire il futuro Milan francese dal direttore generale al responsabile dei rapporti internazionali dal direttore sportivo all'ufficio legale. Alganciato dunque il potenziale direttore generale un noto dirigente d'azienda con svariata esperienza nel calcio di primo livello lo ha convinto a formare al più presto il team che si era in effetti consolidato rapidamente e che era composto di altri professionisti di primo piano del calcio italiano. Le riunioni del team erano iniziate subito con la presentazione degli ipotetici piani per il calciomercato e per il nuovo stadio e con l'ingresso sulla scena di nuove figure. Le due più abituali erano diventati AA, iniziali Ancona-Ancona, socio d'affari di DV e una consulente finanziaria rimasta sempre soltanto una voce al telefono o una casella di posta elettronica dal nome transalpino. La sedicente Christian Valier. Con il passare del tempo non mancavano le crescenti perplessità di qualche componente del team ma una serie di mail di rassicurazione da indirizzi apparentemente veri tra cui quella in cui il dirigente di un'importante banca internazionale avallava le garanzie dell'intermediario, avevano contribuito a fugare i dubbi. Inoltre un fantomatico Arnaud aveva preannunciato dal suo indirizzo di posta elettronica personale l'imminente accordo e fissava l'appuntamento decisivo che si sarebbe tenuto al più presto in Francia o in Inghilterra. L'incronto però non avvenne mai e la parola fine sulla trattativa fantasma la mise l'estate scorsa il vero braccio destro di Bernard Arnaud, il direttore generale di Leus Vuitton Antonio Belloni, rispondendo in modo lapidario dall'indirizzo di posta elettronica, questo sia autentico, alla mail piena di dubbi del team italiano, sempre più sconfortato. Non conosco nessuna delle persone di cui parlate, è così che nel 2021 il caso è finito alla procura milanese che adesso ha affidato le verifiche ai carabinieri e sta valutando l'ipotesi del tentativo di truffa. Eh povero diavolo che pena mi fa! Eh ragazzi miei, è la ruota che gira! 1907-1951, 2011-2052, no di più, 2055. Sella, sella, sella vi, sella, sella vi. Detto questo ragazzoli c'è chi ride, c'è chi piange, domenica probabilmente qualcuno piangerà ancora di più, d'altronde il sorpasso la prossima volta e la Champions l'anno prossimo. Eh vabbè, non questo ma la prossima volta, se ne riparla col prossimo campionato per l'anno prossimo Europa League. Vediamo a chi è, perché può succedere ancora di tutto. Potrebbero succedere anche tre pareggi e sarebbe clamoroso se domenica Napoli, Milan e Juve pareggiano. Eh 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 e il Napoli vincerà tranquillamente 3 a 1 col Verona poi vedremo se ci avrò ragione oppure no io me la butto lì di certezza e non ne ho il calcio è folle ero convinto che il Milan col Cagliari stravincesse mi fanno uno squallido 0 a 0 quindi tutto può succedere tutto può ancora accadere però Arnoux al massimo potrebbe arrivare Arnoux con la macchina brum 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 arriva con la macchina e vi date alla Formula 1 detto questo ragazzoli ci vediamo alla prossima non potevo esimermi da dare questa bellissima notizia che avrà fatto piacere soprattutto a una certa persona che su Arnoux ci aveva messo la facciona e ha continuato a remenarla su arriva Arnoux, arriva Arnoux, arriva Arnoux arriva Arnoux, arriva Arnoux arriva Arnoux e invece arriva Arnoux detto questo ma ciao vado a vedere cosa sta facendo il Monza che è appena passato in vantaggio ciao Arnoux Arnoux Arnoux